Allora dalla Summer League di Esolo in un clima estivo lo dimostra anche il gelato dei nostri protagonisti i tifosi trevigliesi l'avranno sicuramente riconosciuto Lino Frattin poi andremo a conoscere anche la persona che gli sta a fianco anzi ce lo può presentare lui visto che è stato co-assistente in Serie A con la Benetton Treviso e ha da raccontarci qualcosa di questo, diciamolo pure, ragazzo che siederà sulla panchina che è stata di Frattin per un anno e mezzo Beh sì, Adriano lo conoscerete, è un'ottima persona, un ottimo allenatore specializzato con il lavoro dei giovani che è sempre stato un punto importante della filosofia della Blue Basket e quindi un po' alla volta lo conoscerete e certamente lo apprezzerete E Lino Frattin invece che ricordi ha della sua esperienza a Treviglio? Basta chiedere a lui perché gli sto parlando bene di Treviglio, della società, di tutto quanto l'anno e mezzo che ho passato è un ricordo splendido Grazie Lino Frattin, adesso passiamo quindi ad Adriano Vertemati Ti chiamava Vertematrix, è già il tuo soprannome? Ma sì, a Lino piace scherzare però è uno dei tanti con cui mi ha chiamato quest'anno Gli ultimi quattro anni al settore giovanile della Benetton Treviso un campionato vinto, anzi due a dire la verità, uno come assistente questo invece un po' più da protagonista con un grande finale, con un grande lavoro con i giovani è quello che ha probabilmente fatto scegliere te per il prossimo campionato della Blue Basket Spero che questo sia il motivo, nel senso che sono abituato a lavorare con i giovani l'ho fatto negli ultimi quattro anni ma l'ho fatto anche prima mentre nel frattempo continuavo ad allenare i senior a Monza abbiamo fatto una buona stagione ma in realtà abbiamo fatto sempre buone stagioni anche quando non abbiamo vinto perché il nostro obiettivo è sempre stato far crescere i ragazzi e tanti li abbiamo mandati in Serie A, molti in A2 e in B1 e questo è il vero risultato che abbiamo fatto in questi anni a Treviso Ecco, forse, ti punzechiamo subito un po', dal punto di vista negativo c'è forse la mancanza di esperienza a livello di campionato senior anche se il prossimo del campionato A nazionale sarà molto meno senior degli altri Beh, innanzitutto arrivavo dalla B2 di Monza e ho allenato gli under 17 di Treviso ed era molto più difficile, quindi a livello di gestione vi garantisco che un gruppo con aspettative, con molti giocatori di talento non è semplice da gestire e forse è più facile avere a che fare con giocatori senior come dicevi tu però non è neanche detto che sia inesperto per questo livello perché è un campionato nuovo per tutti un campionato nuovo con 5 under, qualcuno con 6 o con 7 addirittura scelte societarie e quindi credo di conoscere bene i giocatori e di poter lavorare bene ci vorrà sicuramente del tempo e pazienza per far crescere la squadra e i giovani A livello di giocatori sicuramente hai affrontato diverse volte nel settore giovanile i vari planizio, marulli, gotti e quelli che sono protagonisti del grande vivaio della blu aerobica Esattamente e spesso ci abbiamo perso, quindi li conosco molto bene, li rispetto secondo me partiamo da un'ottima base e meglio di così non può andare Concludiamo la tua prima intervista da coach di Treviglio con un messaggio anche i tifosi sono molto caldi, sono molto esigenti ma sanno sostenere una squadra quando si fa amare Come hai detto tu conosco la piazza anche se marginalmente ed è una piazza con cultura quando è una piazza a cultura di pallacanestro è giustamente esigente chiedo solamente di aiutare i ragazzi perché sarà una squadra giovane più giovani di quello che impongono i regolamenti e quindi avrà bisogno di tempo ma sicuramente sarà una squadra che darà tutto e che saprà farsi amare